a tutti voi benvenuti su le fonti tv questo nuovo appuntamento di le fonti agora fiscale e allora come sempre partiamo dal titolo che voglio sottoporre alla vostra attenzione un titolo che vede l'accostamento di due parole che potrebbero sembrare quasi agli opposti quasi un ossimoro se proprio vogliamo esagerare l'emozione dei numeri perché perché quando parliamo di numeri e quando si pensa ai numeri si pensa qualcosa di freddo che possa essere qualcosa di freddo e allora che cosa si intende per emozione quando parliamo di numeri cercheremo di raccontarvi tutto questo sapete che le puntate di agora fiscale quando sono speciali trattano gli argomenti in modo speciale ma dandovi informazioni molto utili e allora maria bonsanto con me per questa puntata maria ben trovata ben trovata a te manuela e ben trovati chiaramente a tutti i nostri telespettatori come diceva manuela parleremo di due termini che sono appunto quasi in antitesi numeri e non numeri a caso ma quelli delle imprese quindi parliamo di bilanci in particolar modo di come questi bilanci possano trasmettere delle emozioni all'imprenditore lo faremo in compagnia del nostro ospite do il benvenuto a francesco cardone grazie grazie a tutti i telespettatori grazie per l'invito ben trovato dottor cardone ricordiamo lo CEO di impre focus fondatore del sistema impresa vincente perché ancora non dovesse conoscerlo nonostante il libro che è uscito tu sei un eroe il 7 di marzo il 7 di marzo ricordiamo il giorno del suo compleanno ma scusa maria se ti interrompo poi lascio a te è stato voluto e beh insomma questo è il libro e quindi leggetelo poi magari ricorderemo insomma che cosa si affronta ma peraltro il tema che affrontiamo in questa puntata è contenuto nel libro prego maria assolutamente sì infatti è proprio una delle colonne portanti del libro quello di spiegare all'imprenditore come diventare un eroe anche attraverso una lettura del suo bilancio quindi chiedo immediatamente a lei come si fa a coniugare questa emozione dei numeri attraverso appunto una corretta lettura del bilancio come emozionare perché nei numeri c'è la verità dell'azienda nei numeri quindi nel bilancio noi troviamo l'azienda quindi non la sensazione dell'imprenditore di come sta andando l'azienda quindi l'imprenditore deve avere il coraggio primo di leggere i suoi numeri imparati anche a leggere i quei numeri e da quei numeri capire come sta andando la sua azienda perché la grande capacità che deve avere l'imprenditore contemporaneo è quello di cambiare le strategie a seconda di come stanno andando i numeri della propria azienda ecco perché poi parleremo dell'analisi di bilancio che è un elemento fondamentale per poter analizzare quelli che sono i numeri e decidere quelle che saranno le strategie da migliorare da continuare o da eliminare perché questo è un mondo veramente di grandi cambiamenti è un aspetto che forse a cui forse non si fa riferimento quello del coraggio quando si deve prendere visione del bilancio della propria azienda mi spiego meglio si dà per scontato forse no che se sia un'azienda è normale avere a che fare con il bilancio anzi che si voglia necessariamente guardare invece a volte manca proprio il coraggio di farlo guardi io vengo definito il commercialista divergente o mi auto e mi auto definisco tale nel senso che io penso che anche il ruolo delle professioni è cambiato il commercialista non è più colui che predispone il bilancio per l'agenzia delle entrate il commercialista non è un dispensatore di f24 ma il commercialista deve essere un partner dell'imprenditore che legge con lui il bilancio in questo bilancio sicuramente non c'è una voce se noi guardiamo le voci del bilancio non c'è la voce orgoglio invece a volte l'imprenditore orgoglioso alcuni libri che ho letto mi dicono che tutti quanti noi abbiamo paura no cioè la differenza è tra coloro che hanno il coraggio di affrontare le proprie paure e coloro che non hanno il coraggio di affrontare le proprie paure quindi bisogna avere il coraggio di leggerli quei numeri di capire se quelle che sono le decisioni aziendali le decisioni di strategie aziendali predisposte dal dal borda dell'azienda stanno andando nella giusta direzione ecco perché importante il coraggio il coraggio anche di dire ho sbagliato perché dire ho sbagliato io sono uno che sbaglia tanto e commetto tanti errori uno che prende tante decisioni è quello che commette più errori quindi l'imprenditore deve avere il coraggio di dire ho sbagliato strategia devo cambiare quella strategia ecco perché parlo di coraggio nella lettura la parola però volevo fare giusto un inciso rispetto a quello che lei stava dicendo sarebbe anche impossibile sbagliare non sbagliare perché voglio dire siamo tutti umani però bisogna essere appunto flessibili ad accogliere ciò che anche dall'esterno arriva perché a volte non dipende solo da noi però il fatto di avere un piano a un piano b fino a che piano arriva lei c d e f g z forse fino alla fine dell'alfabeto bisogna analizzare tutto per esempio in un'azienda che ha faccio un esempio cinque prodotti noi dobbiamo andare a valutare quelli che sono i margini di contribuzione per il singolo prodotto perché se io vado a prendere il totale dei cinque prodotti non avrò l'idea precisa di come stanno marginando i singoli prodotti quindi bisogna essere bravi a capire qual è il margine del prodotto uno due tre quattro cinque ed inoltre il mondo il mondo attuale un mondo veloce oggi potrebbe andare benissimo il prodotto uno domani potrebbe andare benissimo il prodotto tre o altro quindi questo è quello che bisogna valutare con grande attenzione quindi entrando ancora di più in profondità e nel merito quali sono gli obiettivi dell'analisi di bilancio quali poi proprio i vantaggi che ne può ricavare l'imprenditore da una corretta obiettiva analisi fatta con quello che dicevamo prima con una buona dose di coraggio guardi io penso che il numero più importante di ogni azienda ma non è che lo dico io nel mondo finanziario quando si vuole valutare un'azienda quotata in borsa si guarda un solo numero che le vi dà e quindi capire qual è l'utile della gestione caratteristica di quell'azienda quindi bisogna avere il coraggio di leggere quel numero e di capire cosa andare a cambiare poi abbiamo ROI, ROS, l'analisi media degli incassi dei pagamenti altra cosa importante dobbiamo capire bene il cash flow dell'azienda se io acquisto un prodotto con un pagamento a 30 giorni e lo vendo a 180 giorni io non sto facendo l'imprenditore, sto facendo la banca, sto finanziando i miei clienti allora quindi questo è quello che oggi deve cambiare in maniera importante un modo diverso di affrontare i numeri dell'azienda perché nei numeri dell'azienda c'è la verità di come sta andando l'azienda e poi c'è una cosa che dobbiamo chiarire in maniera inequivocabile l'azienda è uno strumento per la serenità della famiglia dell'imprenditore noi stiamo parlando di micro, piccole e medie imprese e deve essere questo, l'azienda deve essere colei che porta ricchezza alla famiglia dell'imprenditore cioè un'azienda che non ha l'attenzione alla ricchezza, alla redditività non è un'azienda, è una onlus certo, e beh insomma e quindi bisogna fare distinzione fin da lì ma c'è chi fa questo errore? cioè per sua esperienza, visto che peraltro lei ha deciso anche di portare la sua esperienza in modo diretto e indiretto nel libro Tu sei un eroe perché lei si rivolge a imprenditori come lei ovviamente a partire da quello che ha vissuto sulla sua pelle e c'è chi parte da questi errori grossolani mi verrebbe da dire quindi sa cos'è, le banche hanno il mondo finanziario in genere considerano un'azienda che cresce un'azienda che aumenta di fatturato però non esiste solo il fatturato senza fatturato non c'è redditività, ci mancherebbe però non è il fatturato è il valore importante nel mio primo libro, Impresa Vincente educa, cresce e proteggi quando io parlo di cresci parlo della redditività dell'azienda perché poi dalla redditività dell'azienda noi dobbiamo distribuire ai soci quindi la distribuzione del dividendo secondo, premiare i collaboratori quindi fare in maniera tale che i collaboratori partecipano alla ricchezza dell'azienda quindi dire premialità per i collaboratori dell'azienda sulle utilità la terza elemento fondamentale è quello di investire in azienda per fare in modo da aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'azienda acquistando macchinari e impianti quarto, che secondo me è un altro elemento fondamentale è quello di accantonare come le buone formichine e poi come c'è un'abitudine anche americana è quello della decima che hanno le grandi aziende americane tutte le aziende quello di dare il 10% della loro redditività contribuire, donare Bill Gates oramai non è più il presidente della Microsoft ma della sua foundation dove fanno attività benefica per i bambini dell'Africa quindi questo è quello che è anche importante che l'imprenditore da quella redditività deve anche donare lei prima diceva l'azienda come strumento per arricchire il proprio patrimonio quindi ma non solo anche per arricchire la collettività proprio questa cultura del give back che è molto sentita effettivamente negli Stati Uniti qui forse un po' meno devo dire la verità qual è la sua esperienza? sta crescendo la cultura anche in Italia? sì, sta crescendo molto nel senso che io penso che se noi abbiamo delle aziende redditive dobbiamo contribuire dobbiamo alimentare il nostro contorrente universale dobbiamo avere un'attenzione sociale vede in America oggi va di modo il bilancio etico il bilancio sociale delle aziende anche da noi si sta un po' parlando di green di bilancio green di attività green per le aziende però secondo me noi dobbiamo arrivare ad un'etica delle aziende ad un coinvolgimento sociale delle aziende e questo io penso che sia arrivato il momento opportuno per farlo anche perché quando poi noi versiamo sul nostro contorrente universale la vita ci li dà e ci li dà la grande ecco, quando parliamo di bilancio peraltro si parla direttamente di vantaggi competitivi quello che dicevamo il fatto di aver coraggio di leggere i numeri ci porta intanto a prendere coscienza se la strategia che stiamo mettendo a punto che stiamo perseguendo è corretta e poi ovviamente avere la capacità di modificarla questo però presuppone già un piano stabilito, prestabilito in questo caso forse bisogna preoccuparsi prima dove dividerei la parola preoccuparsi proprio senza agitazione e questo anche fa di noi perché mi metto in mezzo anch'io degli eroi e riuscire a prendere in mano la situazione e poi appunto quanto è direttamente collegato al vantaggio competitivo finale questa capacità di prendere coscienza di quello che l'azienda ci sta dando a livello numerico ovviamente oggi parliamo di numeri quando io le parlo dell'emozione dei numeri significa esattamente quello che sta dicendo lei avere la convinzione che quei numeri ci stanno, quell'attività ci stanno portando verso i numeri giusti per l'azienda qui dobbiamo fare un po' un'attività di prevenzione anche il ruolo del professionista è un ruolo che deve cambiare non più un professionista che guarda il bilancio una volta all'anno mi riferisco maggiormente ai colleghi noi col sistema impresa vincente guardiamo i numeri dell'azienda ogni mese cioè noi il 16 del mese di marzo diamo il bilancio al 28 di febbraio perché bisogna leggere quei numeri step by step work in progress perché altrimenti se io vado a vedere il bilancio di un mio cliente a gennaio, a febbraio del 2023 guardando il bilancio 2022 oltre a una benedizione posso fare ben poco quindi quel bilancio deve essere guardato dall'imprenditore e dai professionisti ogni mese perché giustamente come ha detto lei questo ci permette di cambiare le nostre strategie ma visto che lei è molto attento al benessere ovviamente delle persone e affronta anche questo tema nel libro non si rischia, domanda un po' provocatoria di generare stress con l'idea di guardare ogni mese cioè che per qualcuno per magari qualcuno che è meno attento appunto al benessere personale possa stressarsi all'idea di ogni mese di prendere in mano il bilancio come si fa a prevenire questo aspetto? guardi io quando incontro un imprenditore una delle prime domande che faccio dopo le bidà o i margini di contribuzione è cosa vuoi fare da grande? se un imprenditore ha deciso di fare l'imprenditore non può avere lo stress di guardare i suoi numeri ogni mese anzi io penso che lo stress quello negativo gli arriva se poi guarda quei numeri dopo un anno e quei numeri dicono qualcosa di negativo dell'azienda lì altro che stress c'è la crisi di impresa e c'è tanta roba invece io penso che bisogna avere il coraggio guardi io dico sempre che nel bilancio di un'azienda non ci sono l'orgoglio quindi la testardaggine a volte dell'imprenditore secondo non ti innamorare troppo l'imprenditore non deve innamorarsi troppo della sua azienda perché l'azienda è uno strumento per la ricchezza della collettività, della famiglia, dei collaboratori però dobbiamo fare in modo che quell'azienda vada nella giusta strategia nella giusta direzione cambiando le strategie, essendo dei camaleonti quindi non mi può venire lo stress né come professionista né come imprenditore nell'andare a guardare i miei numeri anzi mi aiuta perché guardando quei numeri se io vedo che quei numeri non stanno andando nella giusta direzione ho la possibilità di cambiarli quindi non mi viene lo stress vado a cambiare quelli che sono i numeri che non stanno performando è un modo diverso di fare economia un modo diverso di fare imprenditorialità e anche di professione Assolutamente non posso che condividere proprio perché per gli anni che stiamo vivendo questa flessibilità ma anche appunto il coraggio e la capacità di monitorare di guardarsi in faccia di guardare la propria attività nella sua evoluzione e perché no, senza paura mai come in questo periodo c'è bisogno di coraggio i numeri possono essere negativi ma proprio grazie alla consapevolezza di quello si può fare il passo oltre e capire come modificare quei numeri come diceva giustamente lei mai essere innamorati a tal punto da diventare ciechi è un consiglio che si dà a qualunque innamorato non innamorarsi troppo quindi della propria gente anche se si dice che l'amore è cieco però insomma poi bisogna un attimino risvegliarsi da un sogno impossibile a volte e invece prendere contatto con la realtà grazie Maria Bonsanto come sempre un piacere grazie a voi è stato un grande piacere Francesco Cardone a presto su Le Fonti TV buona impresa vincente eh sì sempre questo sei all'augurio che diamo a tutti i nostri telespettatori assolutamente sempre vincenti vi aspettiamo su Le Fonti TV buon proseguimento grazie a tutti i nostri telespettatori 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.